Ragazzi, bentornati! Io sono Dacon e questo è il trentaduesimo episodio della mia serie su Minecraft. Ragazzoni, come state? Spero bene. Oggi andremo in esplorazione, alla ricerca del bambù. Il bambù che effettivamente ci serve, perché è un'ottima, è davvero un'ottima fonte di combustibile e scaffolding, quindi di impalcature, e insomma ci torneranno molto utili. Quindi, senza indugio, direi di partire all'avventura. La scorsa volta sono andato a sinistra, quindi oggi direi a destra. Non lo so, anche perché ho esplorato tipo 3000 blocchi in quella direzione e non mi sembrava di vedere chissà quante giungle. Quindi direi di qua, un po' dritto. Non lo so, vediamo. Alla fine ho scelto di andare a destra. A quanto pare c'è un altro isolotto come quelli che abbiamo vicino a casa. Ok, non è male la mappa del tesoro, ci può tornare utile effettivamente. Magari in futuro andremo alla ricerca dei tesori. Un'altra mappa, probabilmente la stessa, perché nelle stesse aree spawnano le stesse mappe. E qui un'altra mappa. Va bene. Direi che, già che siamo qui, giusto che stiamo passando, di prendere la Sea Lantern. Perché è una ottima lanterna effettivamente e non è affatto male. Potremmo usarla per qualcosa di speciale? Non lo so. Ora direi di continuare il viaggio. Ok, c'è un templio. Beh, ma non siamo qui per questo. Quindi, avanti. Il maledetto mi ha dato Mining Fatigue. Quattro minuti. Allora, allora, c'è da dire una cosa, effettivamente. Ormai, le Dark Oak Forest preannunciano il bioma che mi serve. Prima della palude c'era un Dark Oak Forest. Ora, prima della giungla c'è una Dark Oak Forest. Stai diventando il mio bioma preferito, Soppilo. E ora, beh, andiamo a prenderci quello che è nostro. Il bambù. Sì, che poi va benissimo, con Mining Fatigue, però... Anche con un'accetta è un po' difficile. Ha efficienza 4 questa accetta. Davvero. È un bambù. Mi sto mettendo un po' troppo per tagliare un bambù, effettivamente. Ancora due minuti così. Faccio prima ad aspettare. C'è uno scheletro lì. Uno scheletro della giungla. Beh, qui è già spawnato caduto. Perché no? Mio. Devo dire, però, che il panorama è davvero niente male. Questo è molto bello. Nel senso, ci sono dei bambù che sono spawnati sotto il livello dell'acqua. E c'è questa rientranza che tipo gli allaga. Ma effettivamente i bambù possono... No, vero? Sarebbe stato molto interessante vedere i bambù nell'acqua. O comunque forse semplicemente una possibilità in più. Maledetto, Mining Fatigue. Anche i meloni. Sì, ce l'ho fatta. Ok. Ho i meloni. Non mi sembra... Di averli. O forse se li ho, li ho già in semi. Può essere. Non ne ho idea. C'è un pappagallino. Uh, aspettate. Ho due semi. Ho due semi. Tu sei il pappagallino più... Pappagallino pirata che abbia mai visto. No! Sì! Vieni! Vieni! Come faccio? Come... No, non riesco a... Eh sì. Ho il pappagallino sulla spalla. Molto bene. Sta arrivando la notte. Non sono molto felice. Anzi, se proprio lo devo dire, non sono per niente felice. Il panda è la prima volta che lo vedo. Attacca. Il creeper attacca. Il panda magari no. Wow. Queste, diciamo... Montagne mi ricordano tipo qualcosa di mistico. Non ci credo. Mi hai fatto il rumore del creeper. No, no. No! Dove stai andando? Ok, sei risalito. Devi salire. Vieni da me! Vai, il pappagallino! No, non riesco a prenderlo così. Ma lui può proprio volare! Ma sei un figo, pappagallino! Eh no, però devi... Vieni tu da me. Fantastico. Mi sa che non si vuole bagnare il pappagallino. Va bene. Ci allontaniamo. Vieni qua! Non capisco davvero il pappagallo. Cioè, non lo capisco. La manning fatica è finita. Il grosso problema... Adesso è bene un altro. Tutti i mob che ci sono di notte nella giungla. Aia! Allora, voglio un po' di canne. Non troppe. Non ho bisogno di riempirmi l'inventario. E dopo di che... Ho trovato gli alberi... Ecco qua. Però dobbiamo aspettare magari qualche sapling. Ne taglio un po' di più. Così almeno li possiamo ripiantare. Penso di aver perso il mio pappagallo. Sì! I cocobins! Wow! Non li stavo trovando in tutta la giungla. Finalmente! Eccoli! Questi quasi mi spiace spaccarli. Cioè, sono cresciuti sulla terra. Non li spacco. Cioè... Questo è un reperto storico. Tanto non ci vuole molto per iniziare a fare... Più cocobins. Basta avere un po' di bone meal. Nel senso. E noi per fortuna abbiamo la farm di scheletri. Ecco qui degli alberelli. Ne abbiamo due. E qui di fianco oltretutto una savana con forse un inizio di deserto? Va bene. Abbiamo il bambù. Il jungle sapling. E il cocobins. Dalla giungla... Penso che abbiamo tutto. I re di sì. Ah, sì. Mentre passavo di qui. Vediamo. Un clock. Vabbè. Tutta roba inutile tranne l'ossidiana, giusto? Perché non la dobbiamo scavare. E il blocco. D'oro. Ok. Si torna a casa. E rieccomi a casa. Ed ecco qui. Allora. Abbiamo tutto. Tranne il papagallo, purtroppo. Chissà se un giorno lo rincontreremo. Qui abbiamo tre mappe. I D1, i D2 e i D3. Possibile che effettivamente... Chi lo sa? Siano tre mappe diverse. Sarebbe impressionante, diciamo. Ragazzi, vi ringrazio per la visione. Iscriviti al canale per altri video. E noi ci vediamo. Nel prossimo video. Ciao ragazzi.